Allora, tornando a bell'inizio, abbiamo fatto sia sparata perché comunque i difensori avversari erano molto bravi e il loro difensore centrale giocava in eccellenza col Fiumicino, quindi è tutto dire. Sono queste le partite importanti perché arrivano pochi palloni e i due che arrivano prende due punizioni, poi abbiamo il specialista che le finalizza, quindi va bene così. Settima vittoria consecutiva, sì, io sono arrivato che eravamo ultimi in classifica, però mi sono subito accorto comunque della forza del gruppo e mi sono messo a disposizione del mister. Abbiamo risalito la classifica velocemente, adesso siamo a ridosso dei play-off, però continuiamo a guardare in basso e partita per partita vediamo che succede. Voglio un po' di convinzione perché comunque tutti i giocatori che a calcio hanno giocato che giocano e non era possibile comunque una situazione del genere. Il mister ci dà forza e coraggio tutte le partite e noi stiamo tirando fuori il massimo. Settimana prossima ci aspetta una sfida delicata perché comunque incontriamo una delle prime tre, però l'affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi senza paura e vedremo che succede.